In termini di sostenibilità e per l'ambiente, in questi giorni abbiamo concretizzato un accordo di esclusiva per tutto il mercato idile e industriale con una multinazionale spagnola, terza come produttore a livello mondiale che si chiama Finsa. L'accordo prevede lo sviluppo tecnico commerciale di una particolare pannello strutturale, composito in fibre e particelle di legno, denominato Superpan Build. Si tratta di un materiale con alta percentuale di materie prima riciclate e selezionate, coperto da brevetto internazionale. È un pannello polifunzionale, impiegabile sia come elemento strutturale che come elemento di servizio. Grazie alle sue elevatissime doti di resistenza meccanica è interessante la sua applicazione in svariati utilizzi. Siamo convinti che una volta conosciuto questo materiale può offrire una serie di vantaggi all'utilizzatore con ampia possibilità di applicazione. Gli investimenti che abbiamo introdotto per la realizzazione di questo progetto sono importanti e dedicati principalmente all'inserimento di risorse umane ad alto grado di competenza specifica, oltre da un nutrito programma di sviluppo marketing e commerciale. Il prodotto prevede una forte spinta tecnica e questo fa sì che buona parte del 2024 si è rimpegnato nella promozione e nella divulgazione. Abbiamo programmato all'inizio del prossimo anno, come data di partenza ufficiale in corrispondenza del Clima House.